Buongiorno a tutti e a tutti. In una giornata così importante era per me rinunciabile partecipare a questo evento per testimoniare la profonda comunanza di intenti con AISM. La partnership per l'Italia AISM infatti è in corso da tempo con l'obiettivo di lavorare insieme per innovare i modelli del lavoro della società e dell'impresa per cambiare l'atteggiamento culturale nei confronti della vulnerabilità e cominciare a costruire una occupabilità sostenibile inclusiva e generatrice di sviluppo economico e sociale. Inoltre AISM partecipa al tavolo di lavoro ASVIS volto a diffondere l'agenda 2030 sul territorio Ligure entrando così a far parte di quel grande movimento globale che crede nella possibilità di un cambiamento positivo. In questa giornata voglio anche condividere un particolare apprezzamento nei confronti dei documenti presentati da AISM a partire dall'aggiornamento della carta dei diritti intesa a rendere tali diritti ancora più vivi. Una rilettura che consolida i sette diritti già sanciti cui si uniscono altri tre diritti educazione e informazione, semplificazione e innovazione a formare un vero e proprio decalogo. Una carta che sarò orgogliosa di sottoscrivere essendo ispirata ad un'idea di sviluppo sostenibile orientata alla riduzione delle disuguaglianze, all'inclusione e all'accessibilità. Diritti non solo da vivere ma anche da garantire e questo è lo scopo dell'agenda della sclerosi multipla, una mappa di priorità con orizzonte temporale 2025, uno strumento costruito attraverso un processo diffuso di consultazione con tutti i portatori di interesse. Ma costruire un'agenda non basta, la vera difficoltà sta nell'attuarla e ancora di più nel monitorarla e nel rendicontarla e a questo serve il barometro sulla sclerosi multipla. Concludo questo mio breve contributo col porre in evidenza la consistenza di questo approccio metodologico con cui è stato messo a punto un impianto completo e integrato dalla dichiarazione di principio alle azioni pratiche fino alla valutazione dell'impatto e del beneficio concreto prodotto sulla comunità. Un buon esempio quindi di coerenza tra enunciazioni teoriche e comportamenti concreti, la migliore pratica verso la sostenibilità cui tendere per generare un futuro equo, inclusivo e sostenibile. Grazie per l'attenzione. Grazie a tutti.